Questo sarà un video un po' particolare perché ci tengo tantissimo a questo punto del nostro viaggio insieme, del canale, a specificare un po' bene la mia posizione. Io sono uno psicologo, sono uno psicoterapeuta, sono una persona che lavora nel campo clinico, cioè mi piace avere a che fare con i pazienti, mi piace avere a che fare con persone che vogliono migliorare la loro vita, persone che vogliono migliorare le loro relazioni soprattutto. E quindi non ho assolutamente nessun tipo di preclusione rispetto a una persona che abbia un disturbo di personalità, quale potrebbe essere ad esempio un narcisista. Comprendo benissimo quali siano proprio le fatiche, la gabbia, la trappola in cui purtroppo si ritrova. Ma esiste anche un'altra problematica, che questo tipo di disturbo ad esempio è un disturbo che purtroppo provoca molta sofferenza nelle altre persone. E quindi le persone che vengono a contatto con una persona che ha un disturbo narcisistico di personalità anche molto grave, si ritrovano a dover fare i conti con una sofferenza relazionale e personale molto elevata. Sicuramente non è un segreto anche perché se scorrete i video che parlano di narcisismo troverete i commenti delle persone, delle vittime che hanno a che fare con persone che hanno questo disturbo, che siano figli, che siano mariti o mogli, che siano colleghi di lavoro. È veramente complicato perché come ho sempre detto la persona che ha questo disturbo non ha un'empatia, non prova quello che provano gli altri, non si sente in dover soffrire perché l'altra persona soffre, quindi non ha un feedback sul proprio comportamento realistico. È un feedback completamente sballato, cioè lui o lei non si importano, non è una cosa che gli interessa. Cioè quello che voglio dire è che è difficile che una persona che fa del male a un'altra persona non provi rimorso o comunque un minimo di senso di colpa. Una persona che ha questo disturbo non lo prova. Addirittura, se parliamo di narcisismo maligno, in quel caso c'è proprio anche un elemento di sadismo all'interno, quindi la persona prova piacere a far soffrire l'altro o l'altra. Ma tutte le relazioni vengono vissute in ordine al potere e al soddisfacimento dei propri bisogni, che nel caso del narcisista sono quello di apparire sempre migliore degli altri, di ottenere il pagamento dei propri desideri e dei propri bisogni perché ne ha più dritto, e comunque non importarsene degli altri. Gli altri sono un problema se non lo soddisfano, sono un mezzo se lo soddisfano o la soddisfano. E allora un po' mi annoiano i commenti che leggo nel canale in cui «Eh vabbè, ma allora, ma perché non ti dai una svegliata? Ma perché sei caduto o caduta? Ma non te ne sei accorto? Ah ah ah, io sono un narcisista e quindi mi fa piacere far soffrire le altre persone». Non è uno scherzo. Cioè, chi non è all'interno, chi non subisce questi trattamenti, non sa cosa voglia dire. Ed è veramente difficile da dire a un'altra persona «Guarda, sto proprio male, ho un vuoto dentro, ho veramente l'impossibile». Allora, io vorrei provare a descrivere quella che è la situazione di una donna che si ritrova in una relazione con un narcisista che viene abbandonata perché non lo sa nemmeno per quale motivo, che subisce l'ennesimo scarto e che si ritrova a dover fare i conti con le proprie paure, con i propri sogni infranti. E allora, come fai a spiegarle che fino all'altro ieri stavano parlando di che occhi avrebbe potuto avere il loro figlio? Che lei sognava sul fatto che potesse averceli proprio belli, sagomati come lì a lui, sì, poi con i capelli un po' ricci, con i capelli un po' mossi? e si ritrova ad avere un uomo di fronte che la rassicura e le dice «Ma sì, pensa quanto saranno belli i nostri figli» e da un momento all'altro sparisce. Non si fa più vedere, non si fa trovare, la lascia nell'angoscia più totale. Oppure che il sogno di fare un matrimonio insieme, aver già deciso la Chiesa, aver già deciso le date, e a un certo punto si ritira. Ma non per immaturità, ma perché non trova più soddisfazione, non vuole legarsi a quella persona. Oppure quella persona che si ritrova sposata con un uomo così. Vorrei capire che vuoto posso avere dentro. Lo sappiamo tutti che a un disturbo di questo genere fugge l'intimità, fugge il contatto. E allora si ritrovano dentro a delle gabbie vuote, fatte di ricordi, perché poi quello che più di altro viene fuori è il ricordo di quella fase bellissima che hanno vissuto in un momento in cui non l'hanno neanche chiesta. Cioè, erano tranquille, si sentivano a loro agio, problemi, sì, più o meno, però molto gestibili, e invece si ritrovano ad aver avuto un uomo che le ha cercate, le ha corteggiate infinitamente, le ha fatte innamorare, impazzire per loro. Per quale motivo? Perché gli ha fatto tutte le promesse che avrebbero volto sentirsi dire. Per una volta nella vita, o comunque per ancora una volta, si sono sentite proprio la persona desiderata dall'altro. E invece tutto questo, dopo un paio di mesi, inizia a scricchiolare. Iniziano le critiche, iniziano le fughe, iniziano le litigate per qualcosa di cui non si sa neanche il perché, iniziano a vacillare anche i sogni, gli obiettivi che si avevano insieme. Sì, però adesso voglio pensarci, non mi sembra più una cosa tanto interessante, forse però sì, non è il momento. E inizia a corteggiare altre donne, quando ti ha sempre detto che sei l'unica che guarda, e ti ha fatto sentire così. E come fanno gli altri a capire il disturbo, il disagio, l'angoscia che si può provare nel momento in cui non ti risponde? Provi a mandargli un messaggio, non ti risponde, non sai dov'è. L'ha già fatto altre volte, ma questa volta è più lunga. E tu avevi programmato la vacanza alle terme con lui, in quel posto bellissimo, in quel posto che, siccome lui è molto raffinato, voleva andarci e voleva aprire quella bottiglia di vino, perché sai, è anche un intenditore raffinato di vini, e invece sparirà tutto. E le vostre foto insieme, quello che avevi sognato che avresti voluto fare con lui, stare insieme, avere dei momenti di intimità pazzesca, non si potrà fare, perché proprio pochi giorni prima di decidere e di partire sparisce. E tu rimani lì, ferma. Come fai a spiegarlo alle tue amiche che ti criticano, perché ti dicono, sei una debole, non devi lasciarti andare in questo modo, devi reagire, ma tu hai paura di perderlo, tu non hai altra voglia che vederlo, che lui torni indietro, che ti mandi un messaggio, che ti scriva il buongiorno come ti ha sempre scritto. perché è quello di cui hai bisogno di sedare questa angoscia in questo vuoto profondo in cui ti ha lasciato. E come fai a spiegarlo? Chi ti può capire in questo? Avrai solo persone che subiranno la tua sofferenza e quindi vorranno intervenire, vorranno dirti, ma no dai, adesso reagisci, ti porto fuori, conoscerai qualcun altro, ma ti interessa solo lui, perché ti ha fatto fare tutte le montagne russe emozionali possibili, ti ha portato nelle vette più alte, cose che tu non hai mai vissuto nella tua vita, così belle, ma anche delle profondità, degli abissi, che tu non hai mai provato. Quando sparisce, quando ti maltratta, quando facendo l'amore con te ti paragona alla ex, quando ti tocca la pancia e ti dice eh vabbè qua ci stiamo dando dentro col cibo, eh complimenti, quando ti ha sempre detto che a lui piacciono le persone che abbiano un po' di morbidezza, quando tutto quello che ti ha detto prima e per cui tu ti sei innamorata follemente ed eri disposta a tutto, hai abbandonato quasi gli amici perché lui ti diceva sempre di stare con lui, hai abbandonato le amiche perché lui ti diceva che non gli piacevano queste persone qua, hai iniziato a non frequentare più la tua famiglia, perché? Perché lui ti ha iniziato a dire che non sopporta tanto tua madre, perché è tuo padre e allora quando al mattino ti svegli e l'unica cosa che vorresti è vedere un suo messaggio o sentire una sua chiamata, trovi un messaggio di tua madre, un messaggio di una tua amica, una chiamata di tua madre e l'unico pensiero che fai è no caspita, se ho il telefono occupato va a finire che lui se chiama non mi riesce a parlare. E c'è una parte di te che è razionale, che lo sa che stai vaneggiando, che non sarà così e allora inizi ad isolarti, perché da un lato l'hai fatto già un po' prima, perché lui non andava mai bene nulla di quello che proponevi tu, soprattutto nella parte finale del vostro frequentarvi e quindi hai iniziato a non frequentare i tuoi amici, come dicevo prima, quindi fai più fatica a riallacciare, ma poi ti vergogni, perché in questa società, in questo modo di vivere, è l'onesto che si vergogna, non è il truffatore, cioè è la persona manipolata che si sente imbecille, ingenua, in maniera proprio non positiva, diciamo, e quindi se lui ti ha gabbato e lui ti ha fatto credere delle cose e tu ci sei cascata, in più ti vergognerai di questo, perché in questa società l'onestà è poco valorizzata, mi permetto di dirlo, un'opinione personale, ma io lo ritengo vero, e quindi ti diranno ma sei stata sciocca a credergli, non dovevi fidarti così tanto, ah gli hai prestato pure dei soldi, complimenti, ah ma pensavi che lui dopo due mesi ti avrebbe sposato, avrebbe fatto figli con te, ma non ti rendi conto che erano cose tutte strane, fuori dal mondo, ma tu sei una persona, potrei dire, che ragiona con una testa, con un modo di ragionare, leale, cioè onesto, e quindi se una persona ti dice quelle cose, che strano, ci credi, pensi che sia possibile, perché tu non diresti mai a lui una cosa che non pensi, non gliel'avresti mai fatto una promessa, ma comunque questa persona te l'ha fatto, e allora io sono stufo, lo dico, lo dichiaro, di leggere dei commenti contro le persone che cascano in queste situazioni, e il mio intento in questo canale è offrire informazioni e dire cose e dare la possibilità alle persone di difendersi, perché di manipolatori ce ne sono tanti, anche nel campo amoroso, ma anche nel campo amicale e come dicevo prima, anche in famiglia purtroppo, e se io allora ho più conoscenze di quello che capita e capisco che ci sono degli step, che quello era love bombing, che poi c'è stata la critica, l'immigrazione, poi che c'è stato lo scarto, e che poi, come manda messaggio a me, le manda altre dieci persone, e che comunque poi tornerà e farà finta di niente, e io mi sentirò di chiedergli scusa. Se io capisco tutti questi meccanismi, un po' di possibilità in più di liberarmi, le ho, e forse anche di non caderci. Ma quello che voglio soprattutto è che quando succedono cose del genere, la persona che è vittima di questo abuso narcisistico non sia più una persona che si ferma di vivere, ma che ha ancora la possibilità di sperare e di migliorare la propria vita e di potersi incontrare con delle persone degne di lei, in questo caso, che la possono veramente amare per quello che è. E allora ci tengo anche a dire che questo non è un video per far arrabbiare le persone, perché a volte nei commenti c'è anche scritto questo, e allora abbandoniamoli, allora trattiamoli come se fossero dei criminali. No, quello che voglio dire è che però io ho massima comprensione per chi subisce e purtroppo lo devo anche dire questo, è difficile per me avere in studio un rapporto terapeutico profondo con una persona con questo disturbo, perché personatura è difficilmente trattabile. Veramente, io faccio tanti complimenti alle persone che migliorano la propria empatia, che riescono a fare un percorso, lo faccio anche i miei colleghi psicologi, psicoterapeuti che riescono a migliorare la situazione della persona con questo disturbo, ma generalmente chi si rivolge dallo psicologo perché vuole migliorare la propria vita è la vittima, perché è lei che si riesce a sentire che le cose non vanno, è lei che non dà la colpa agli altri, che pensa che ci sia qualcosa che può cambiare anche in sé, sa di essere stata truffata e raggirata, sa di aver perso del tempo, vorrebbe comunque avere quella persona accanto, ma si rende conto che ci sono delle cose in lei che vorrebbe cambiare. E allora quello che io invito a fare è lavorare su se stessi. Il primo passo è quello di avere maggiore informazione. Se vivi una situazione del genere allora informati, cercati dei video, degli articoli, dei libri che ti aiutino ad approfondire questi argomenti. Qua nel canale mi sembra di poterlo dire ci sono centinaia di video sull'argomento e cerco sempre di sviscerarli al massimo possibile e anche introdurre delle note possibilmente di pratiche cioè di fare qualcosa dare delle indicazioni per poter superare se ci sono delle difficoltà per poter andare avanti come farò anche in questo video e se vuoi qualcosa di scritto c'è anche il blog fabiomazza.eu nel quale puoi trovare molti articoli che parlano di narcisismo e di rapporto con il narcisismo. Allora la prima fase è la consapevolezza la comprensione secondo accetta che sia andata così cioè avresti voluto un amore bellissimo non è quello che è e allora smettila di pensare che potrebbe migliorare le cose sono queste un narcisista come dicevo prima difficilmente cambia veramente sono pochi quelli che riescono a fare questo lavoro proprio per il disturbo che hanno è difficilmente trattabile allora a questo punto cerca tu di trovare le tue risorse per poter crearti una vita lavora su te stessa informazione accettare ciò che succede quindi che le cose sono andate in un certo modo non in un altro non vergognarti del dolore che stai provando della sofferenza perché quello che stai subendo è una ferita molto forte essere abbandonati o comunque subire queste montagne russe tra il coinvolgimento e l'abbandono è veramente qualcosa di straziante per chi lo vive e quindi accettalo e non ti vergognare investi su te stessa cioè cerca di fare qualcosa che ti dia la possibilità di stare bene creati degli hobby e rinizia a frequentare le persone che hai abbandonato per seguire il tuo compagno la persona che avevi accanto perché ti ha comunque cercato di isolare ricerca di ristabilire quei contatti quella mamma che ti stava chiamando al mattino per sapere come stavi probabilmente è quella la persona di valore nella tua vita non colui che ti ha trattato in questo modo smettila di colpevolizzarti non è colpa tua smettila di pensare a quando hai fatto qualcosa per cui le cose sono cambiate per cui lui se n'è andato da te non c'è un motivo preciso l'avrebbe fatto comunque quando nel momento in cui tu non sei il rifornimento narcisistico adeguato lo fa ma allora fai anche però forza sulle tue capacità cioè ripensa a quanto amore a quanta energia a quanto hai messo in questa relazione quanta roba che hai da dare ora probabilmente mi permetto di dire che l'hai data alla persona sbagliata ma puoi veramente avere confidenza fiducia in te cioè pensare che tutto quello che hai è una cosa enorme è qualcosa di potente che puoi offrire alla prossima persona solo però se farei un bel lavoro su di te perché se invece partirai con tutti gli almetti per poter combattere contro le persone che si avvicinano a te questo non è una buona premessa è importante riconoscere i segnali di una manipolazione e spero che lo farei sempre di più ma sappi che è importante anche potersi abbandonare e vivere l'intimità e la fiducia necessarie per avere un rapporto di coppia fantastico e allora non vergognarti mai di aver vissuto una relazione del genere anzi complimenti se riesce a uscirne e se riesce a rinascere da questa situazione perché è veramente molto complicata e ci sono situazioni anche sempre più complicate ci sono di mezzo dei figli in questo video non ne parlerò sono altri video che ho dedicato a questo argomento vi lascerò il link qua in descrizione ma informati anche su quello è necessario essere sempre più informati per poter comportarsi al meglio non per affossare o vendicarsi del narcisista ma per poter rinascere devo anche ammettere che detesto le persone che parlano di narcisismo incitando le persone a vendicarsi a trovare il modo di contramanipolare in modo tale da far diventare dipendente narcisista allora quello che mi sento di dire è che ti do un abbraccio forte se stai guardando questo video e l'hai guardato a questo punto e non perdere la speranza di poter rifare una vita o comunque di avere una vita migliore nel tuo futuro a questo punto